carissimi confratelli pace e bene negli ultimi giorni e notizia a livello mondiale la possibilità di un conflitto armato nell'est europeo in paesi dove l'ordine a presenza dei frati ancora una volta le più grandi potenze del mondo per ragioni geopolitiche o altri interessi giocano con il dono inestimabile della pace e dell'integrità delle persone che sono un dono di dio insieme dunque ai confratelli specialmente di questi paesi e della federazione femmo chiedo a tutto l'ordine di scegliere come comunità un giorno in questa settimana per fare un'ora di adorazione al santissimo e un santo rosario chiedendo il dono della pace per questa parte del mondo e anche per tutti gli altri paesi dove la pace viene minacciata chiediamo anche il serafico padre san francesco che ha vissuto e anche predicato la pace che interceda presso dio per la pace nel mondo dunque in questa settimana tutte le comunità scegliete per favore un giorno per questa preghiera vi saluto ancora pace e bene grazie a tutti